Davvero una bella notizia oggi. Il nostro PSR è salvo, non perderemo neanche un euro. Tutti i coltivatori che sono in graduatoria utile verranno pagati. Davvero una grande manifestazione di professionalità e di orgoglio da parte degli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e soprattutto una grande speranza per tutta l'agricoltura pugliese, ma anche una lezione durissima per quelli che hanno raccontato in questi mesi che avevamo già perso questi soldi e che dovranno imparare a parlare a tempo debito.